Bentornato campionato, bentornata Serie A, ci siamo ragazzi, ci siamo, manca una giornata, una giornata, proprio una giornata, 24 ore, qualcosa di più, e domani partiamo con Milan Udinese, che Serie A mi aspetto, che stagione mi aspetto, ci sarà un problema, che sarà quello dei mondiali, dove noi non partecipiamo, ma ne parliamo quello, abbiamo tanto tempo per parlarne, perché? Perché paradossalmente questo problema dei mondiali, che ovviamente per noi sarà seccante, però ci dà molte più partite, molte molte più partite durante il premondiale e il post mondiale, quindi sarà divertente seguire la Serie A, cioè non avremo quasi, non possiamo neanche spezzare il fiato, finisce una partita e inizia l'altra, voi sapete questo canale, abbiamo tante rubriche appunto sul campionato, il pronosticone e tante altre rubriche che quindi seguiranno una dietro l'altra queste giornate, ripeto, cosa mi aspetto, che campionato può essere? Io spero che sia un campionato divertente in termini di classifica e là ci credo, perché io, il Milan potrebbe andare via, la Roma non so se va via, l'Inter potrebbe, secondo me comunque si livellano, quindi il campionato sarà bello aperto, spero, e il gioco, io spero che il gioco sia un po' più vivace di quello di l'anno scorso, non l'ho dimenticata, certe partite l'anno scorso seguire certe partite è stato difficile, per me che ho un canale è stato davvero difficile, perché le dovevi seguire ma non avevi voglia, spero che le partite siano un po' diverse, credo che la Roma quest'anno farà belle partite perché i giocatori devono giocare in una certa maniera, l'Inter con il Lukaku là davanti, il Milan sta migliorando anche il livello di spettacolo, a me è molto piaciuto il Milan di di questa prestagione, la Juventus è meglio che Allegri vada via, perché se Allegri con quel popò di squadra vuole fare ancora difese e contropiede, difese e contropiede, lo mandano via, lo mandano via perché secondo me gli stanno costruendo la squadra proprio per togliere l'alibi e dire, oh ragazzi, signori miei qua dicono Baratici sta facendo benissimo, Kuluseski sta facendo benissimo, Betancur sta facendo bene, Morata farà bene, è chiaro che il problema è alla Juventus e non sono i giocatori e quindi secondo me, sapete io mi diverto molto qua anche voi, siamo tutti uguali, siamo tutti uguali, mi diverto molto con gli sfoghi, vedere sfogare la tifoseria, il casino, tutte queste cose qua è divertente, è divertente e secondo me ne vedremo tante da parte di Juventina di queste situazioni in cui ci saranno tanti sfoghi, allegri via, allegri via, eccetera eccetera, perché il Milan è ben saldo, il Milan, con tutto rispetto, non sarà divertente per quel punto di vista, perché il Milan è saldo, Pioli ha in mano la squadra, la squadra sa cosa fare, quindi il Milan darà soddisfazione ai propri tifosi, ma a livello di YouTube, a livello di casino su YouTube, il Milan non ne darà tanto di soddisfazione, quella che può dare soddisfazione è l'Inter, sia che riesce, sia che non riesce, per un semplice motivo, perché sotto sotto tutti aspettano che l'Inter scivoli, che l'Inter faccia male in difesa, che Lukaku non segni, però d'altro canto se invece l'Inter ricomincia con Lukaku che segna, Lautaro, l'Inter è una squadra che fa notizia, è meno piatta del Milan, sto parlando io di spettacolo, non sto parlando di sport, sto parlando proprio di spettacolo, e dopo c'è la Roma, la Roma con tutte le passioni che si porta addosso, io sarò spesso a Roma quest'anno, quindi vedrò anche di andare all'Olimpico, così come mi piacerebbe anche andare un po' al Meazzo, vedere l'Inter in trasferta, che è una cosa molto probabile che farò, tipo un Napoli-Inter, Lazio-Inter, sto pensando di fare cose del genere, e questo diciamo, la Roma è una squadra che sicuramente a livello di YouTube, sto parlando, fa divertire con i vari YouTubers, con tutta la passione, con tutto il casino, con Muregno, e dopo c'è il Napoli, il Napoli è un altro che può fare, virgolette, divertire, perché il Napoli si è spento, gli hanno spento la luce perché vogliono rifare, è come se stanno ristrutturando il tutto, vogliono ristrutturare, secondo me in malo modo, quindi qualche problema lo potrebbe avere, allora ci sarà, dopo ci sarà un po' di casino anche a livello mediatico, dopo ci sono le squadre come Fiorentina, Atalà, Atalace, con tutto il rispetto, sono le otto sorelle, io le metto sul punto sul campionato, le eseguo particolarmente, però non mi danno quel pathos, quel piacere di andare a vedere lo sfogo che ho con la Roma, con il Milan, con l'Inter, con la Juventus, quello è tutto diverso, è chiaro. Comunque, questo sarà il campionato, sono molto curioso del Monza, sono molto molto curioso del Monza, secondo me farà divertire a prescindere tra Galliani, Berlusconi, Casini, giocatori nuovi, comprano questo e quest'altro, un po' della Salernitana, però tutto sommato, ecco, sono un po' curioso della Serie A, quindi bentornato, campionato, spero che non ci siano problemi a livello di queste polemiche arbitrali, che a me non piacciono, non sono nel mio DNA le polemiche arbitrali, perché io, anche come un ragazzino così, però voglio credere alla buona fede degli arbitri, quindi a me non piace quando si parla troppo degli arbitri, vediamo, vediamo cosa succederà quest'anno. Campionato, a proposito, la risposta, stasera ci sarà la risposta, quindi sapete come funziona, chi vuole faccia le domande sotto questo video, stasera risponderò e metterò la risposta, domani di mattina non so se farò il video, ma sicuramente di sera c'è Milano Udinese, quindi la vedrò, farò il post partita e c'è una piccola novità, ne parlo poco, anzi, non so se parte domani, forse sì o forse no, che durante il primo tempo o metto una storia su Instagram o metto un video su Tic e sapete cosa, o l'uno o l'altro, quindi seguitemi su DigoCtn08 su Instagram o seguitemi su DigoCtnpasta sul Tic, giusto per, perché probabilmente, 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 anzi quasi sicuramente su Instagram e metterò una storia dove do un po' il commento di quello che è il primo tempo, do ovviamente il commento finale su quella che è la partita, quello lo facciamo direttamente sul canale YouTube, sarà subito, il post partita è immediato e ci divertiamo. Live non so, live ancora un po' presto perché c'è tanto caldo, anche se oggi un po' meno, c'è tanto caldo, quindi di fare le live, a me sinceramente, in questo momento mi verrebbe forte, adesso per dirla con voi, un po' di vlog, mi sto andando a buttare a mare, è un po' nuvolo, ma chi se ne fotte, pieno di straniere, pieno di cose, c'è qualche amico da andare a incontrare, quindi perderò tempo fino di mattina, di pomeriggio, di pomeriggio non lo so, dopo pomeriggio mi preparo un po', dopo vado un po' in palestra, stasera vediamo e domani, stasera comunque c'è la risposta.